Con il sindaco di Taranta Peligna parliamo delle grotte del Cavalone, questo gioiello naturalistico d'Abruzzo, presenze in aumento, tante iniziative anche per le prossime settimane. Esatto, noi abbiamo confermato, nonostante abbiamo avuto problemi iniziali per difficoltà gestionali dell'impianto funiviario, ma siamo riusciti ugualmente a superare le 10.000 presenze, che era l'obiettivo massimo a cui avremmo voluto pervenire anche per quest'anno. A fine mese, in occasione di Abruzzo-Pendè, ci sarà un'apertura straordinaria non solo della grotta del Cavalone, ma anche di tutte le emergenze carsiche presenti sul territorio regionale. Abbiamo istituito una sorta di iniziativa che si chiama Grotte Day, e in quei giorni saranno facilitati gli accessi con tariffe veramente molto vantaggiose. Noi abbiamo, diciamo così come emergenze naturalistiche, sicuramente quella più importante in termini di indotto e in termini di ricavi relativi proprio alle grotte stesse. Noi abbiamo avuto 160.000 euro di entrate per funivie e grotte, oltre 100.000 euro sono stati spesi sul territorio, in termini di ricezione turistica, di ristorazione e di artigianato locale.